Buongiorno a tutti, cari aspettanti. Ho provato a prendere il commercio centro e mi faccio una grande riguardo. Questa sfera giù vedete il tuo infloro. Riccardo che io non dà papà a voi. Ci ti è vero e bello. Questa sfera è piaciuta, però me ne succedi a voi. Anche a via i colori che ci ti viola, che è questa la plava. La oliva arvoi, io e' un po' che ne manca. Restas più cari di più. E' un cio. Vi servito, cari ricordanti.